Amici Peaseman, questa volta cercherò di essere il più sintetico possibile, quanto chiaro. Ho sentito tante idiozie dei negazionisti riguardo Zoro, forse perché per questi negazionisti vedere Zoro è un piatto troppo piccante. Io amo sia Sanji che Zoro, quindi difendo il manga. Salterò quello che ho fatto questa settimana? Salterò la cover che diciamocelo è l'ennesima cover che fa? Esattamente, quella parola lì, che non dirò ma ci siamo capiti. Se vi chiedete come mai cerco di accelerare, beh la risposta è semplice, ho sprecato troppi fazzoletti con questo capitolo. Sto scherzando su, ho avuto parecchio da fare e soffermarmi su una cover tanto inutile mi sembra superfluo. Ah dimenticavo, sono sbarcato anche su Instagram. E ora che lo sapete passiamo subito al capitolo. Potremmo dividere il capitolo in tre parti e ognuna di esse potrebbe avere il suo videocommento, ma parlerai troppo e non credo che riuscirei a fare un monologo tanto lungo. Le parti in cui dividerei il capitolo e a cui mi riferisco sono la parte di Big Mom e Kid, la parte di Zoro contro Kaido e la parte di Luffy contro Kaido. Il capitolo prosegue, letteralmente il precedente. Big Mom viene salvata da Prometheus grazie a Kaido che lo libera e l'Omis fa una particolare richiesta a Big Mom. Il tutto si chiude con la frase emblematica di Kid sulle nuvole. Per quanto riguarda le nuvole ho due opzioni. Opzione 1. Kid e Killer commentano lo scontro sul tetto tra Luffy e Kaido che noi vediamo solo dopo. Scontro che ha diviso il cielo, come avviene quando due personaggi che si scontrano hanno un acchi del re potentissimo. Se ricordate quando Shanks e Barba Bianca si erano scontrati, i presenti avevano commentato il cielo. Opzione 2. Kid e Killer vedono il nuovo Zeus di Big Mom su richiesta di Prometheus. Non mi sbilancio perché entrambe potrebbero essere valide. Non mi viene in mente altro se avete dei postati anche qui sotto. Kaido sta per porre fine alla vita del nostro capitano. Dico nostro perché io ero, sono e sarò sempre Prom Ghiwara, anche se ho le mie preferenze all'interno della ciurma come tutti. Ma dicevo, Kaido sta per porre fine alla vita di Luffy quando Zoro si interpone. Ma facciamo un passo indietro. Nel 1009, ovvero il precedente capitolo, Zoro aveva salvato la vita a tutte le altre supernove rischiando la propria, fermando quel tanto che bastava il colpo combinato di due imperatori sorprendendo tutti. In questo capitolo lo è sorpreso vedendo Zoro perché secondo la sua esperienza di medico, ora come ora Zoro dovrebbe essere con le ossa rotte. Anche se questo in One Piece non è un problema, un bicchiere di latte passa la paura. Sempre lo decide di intervenire per evitare a Zoro di subire un ulteriore colpo. Alternandosi due volte a lui, ma il capitano di Zoro è lì, a terra, privo di sensi. E nonostante ciò il suo sguardo parla, non si arrende. E lui, Zoro, sa che adesso è il suo momento. Deve fare qualsiasi cosa per permettere al nostro capitano, nonostante a dire di lo che è medico o abbia probabilmente l'ossa rotte, di riprendersi e fare quello che ci aspettiamo da lui, tentare di mettere fuori gioco un imperatore. Abbiamo un grande ritorno dopo Ennis Lobby, dopo Sabaudi e dopo il suo uso non canonico in qualche film, fa il ritorno a Shura, la mossa da denota come la più potente di Zoro. La Shura è una tecnica particolare che permette a Zoro di usare non tre ma nove spade. Nelle precedenti versioni avevamo visto nebbia argentata del demon a Shura, volume 43 contro Kaku e volume 52 contro un pacifista. Qui abbiamo sempre la tecnica nove spade a Shura, ma non è la nebbia argentata, ma farsa dei morti. È una delle traduzioni più attendibili. Una cosa certa è il nome di questa mossa, in quanto è l'ennesima strizzata d'occhio di Oda al Giappone, e anche un'autocitazione. L'attacco in giapponese è, scusate la pronuncia maccheronica, Bakei Moiano Tawamure. Questo è un riferimento all'opera teatrale di Rakugo, in cui i quattro protagonisti passano proprio nell'incrocio dei sei sentieri, attacco usato da Zoro nel capitolo precedente, e incontrano Enma, il re degli inferi. Enma è il nome di una delle tre spade usate da Zoro. Nella storia a cui fa riferimento Oda, i quattro protagonisti si divertono a fare scherzi ai demoni. Queste informazioni sono inserite nelle note dai traduttori delle scan, ma sono una piccola chicca che non potevo non citare, no? Un dialogo interessante tra Kaido e Zoro segue l'attacco di quest'ultimo, ma ne parlerò più avanti. Luffy si rialza, ha sentito tutto, ha capito e sentenza. Approfondirò meglio questa cosa più avanti. Purtroppo avremo una pausa, quindi passiamo subito al prossimo step. Qui farò alcune analisi e ipotesi su ciò che abbiamo visto. Cosa avrà chiesto Prometheus a Big Mom? Creare un nuovo Zeus? Abbandonare Zeus? Un modo di potenziarlo ulteriormente? Altro? E adesso parliamo del piano e i problemi di traduzione, ovvero la frase di Lo riguardo il piano. A secondo delle traduzioni lo fa intendere che il piano è opera sua, oppure che il piano è corale, ovvero il nostro piano. A livello di senso cambia poco, ma alcuni nemici dello spadaccino usano la cosa per sminuire quest'ultimo sempre e comunque e per esaltare Lo, che alla fine per me non ha fatto molto, ha fatto solo il suo, dato che i suoi poteri, che come sappiamo ne fanno uno dei migliori support di tutto One Piece, sono quelli dell'Ope Ope. Il dialogo tra Zoro e Kaido prima, Luffy e Kaido dopo, i colpi che vengono scambiati tra Zoro, Kaido e Luffy, danno un nuovo elemento riguardo l'approfondimento di un tema che piace molto al fandom di One Piece, Lucky. Zoro hachi del re? Per me sì, lo dicevo da anni e dico che questo concluderebbe i parallelismi onnipresenti che ci sono nell'opera di Oda tra Zoro e Riley e anche tra Luffy e Roger. A coloro che dicono che Zoro ha fatto una figura di merda sul tetto rispondo ha salvato innumerevoli volte la vita a Luffy, ha trattenuto il colpo combinato di due imperatori permettendo a tutti di salvarsi e ricevendo il ringraziamento del personaggio forse più arrogante di tutto il manga, Capitano Kid, ha tagliato Kaido abbastanza da lasciargli una cicatrice lasciandolo a bocca aperta, ha dato accenni di acchi del re, fatemi capire, il protagonista è lui o Luffy, cosa doveva fare di più? E ora signori e signore, forse la rubrica più attesa, quella dei meme! Anche nel 1010 dov'è Sanji? Che il sangismo sia finito? Eh? Ditemelo pure qui sotto! Dico io ma quanto è potente Zoro? Quanto cavolo è forte il nostro spadaccino? Ma chi è? E niente, in questo colpo Luffy mi ha fatto tornare alla mente Ken di Street Fighter e quindi ho realizzato il montaggio. Ho anch'io un acchi potentissimo! Quando nel precedente video sul capitolo avevo fatto una previsione riguardo quello che accade in questo capitolo, ci avevo preso non al 20% ma al 100%, avevo detto che le altre supernova se la sarebbero vista brutta e verso la fine, quando tutto sarebbe stato perduto sarebbe intervenuto Luffy, con qualche colpo potentissimo e frase d'effetto, con tanto di chiusura. Siamo quasi arrivati alla fine, vi lascio una piccola news. Con l'arrivo del volume 98, 99 e 100, arriva in Italia un evento interessante promosso dalla Star Comics, magari ci farò un video a riguardo. Per il momento, se volete informazioni a riguardo, vi consiglio la Tana del Nerd, la migliore fumetteria di tutta Bisceglie, gestita da un appassionato di fumetti, Giacomo Ferrucci. Troverete le varie informazioni per contattarlo nella descrizione. E visto che siamo quasi arrivati alla fine, passiamo ai saluti. Come sempre saluto l'intramontabile CDL, vero gruppo massonico. Saluto anche coloro che hanno commentato la precedente videoanalisi, Bartolomeo, Deidara, Sir Crocodile, Eleonora, Tubo, Kaneki e Gaga One Apples. Questa volta non ho fatto domande, ma se ne avete per me benvenga, risponderò volentieri. Se siete arrivati fin qui, scrivete sotto, hashtag ciao Delli Mello, ripeto, hashtag ciao Delli Mello. Delli, se vedi questo video, cosa di cui dubito, vorrei vederti nuovamente in live su SDR con Shindenk, che è stato presente nella live del capitolo 1010. Ricorda tutti che chiama One Piece lo condivide, i lupi team cercano Editors. Se il video ti è piaciuto metti un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!